L'arte è intesa come mix di varie discipline, proprio come un risultante interdisciplinare. Marco Nereo Rotelli è sicuramente uno dei protagonisti di questo modo di concepirla. E si presenta a Roma con un'iniziativa che parte dalla Biennale, va avanti e arriva al macro. Sì, devo dire che già, come si suol dire, da bambino ero un attento osservatore di un tentativo che avevano fatto negli Stati Uniti, che partiva da Warhol, che partiva da Ginsberg, e si chiamava Art Combine. Questo tentativo poi non ha avuto il risultato che poteva avere, perché poi giustamente o meno, ma ovviamente diciamo, Ginsberg continuò con le sue poesie, Warhol con la sua arte. Però io rimasi fulminato da quell'istante di combinazione fra i saperi, che arrivava a Ferlinghetti, Cage, con la musica. E quindi poi la mia propensione è stata sempre quella di una ricerca, di un'utopia, di un'opera d'arte totale. Qui ti presenti a confronto con Adonis, cioè un poeta di origine siriana, molto conosciuto, soprattutto all'estero. Ecco, perché proprio lui? Nel corso della mia ricerca ho sempre lavorato con i poeti e questa installazione, che vede tanti lavori realizzati in diverse biennali e contestualizzati in significati diversi, perché le porte che vediamo, facciamo parte di cento porte alla biennale, la scala, facciamo parte di un'altra installazione, riemergono qui in un nuovo contesto simbolico e poetico su un tema che è quello della rigenerazione. Quindi ho scelto una serie di elementi che ho utilizzato nel tempo sull'idea di rigenerare qualcosa, presi da diverse biennali. Ma ognuno di questi elementi però ho avuto a che fare con dei poeti. Quindi qui abbiamo lavori che ho fatto con Simu Sihinei, lavori che io ho fatto con Edoardo Sanguinetti, lavori che ho fatto con Mary de Rack e Bill Spound, lavori che ho fatto con Luzzi. Quindi ho un passato che racconta questa mia predisposizione a creare non un sistema dove la figura dell'artista è una figura egocentrica, ma un sistema in cui io creo una piattaforma collaborativa. Adonis rappresenta un punto interessante perché è una sorta di biglietto di andata e ritorno, cioè lui stesso è poeta, è un uomo che si impegna letteralmente anche nel politico, ma è anche un uomo che è molto attento a quella che può essere l'attenzione di una parola liberata dal suo significato contestualizzato nella poesia per liberarla all'interno dello spazio artistico e farla diventare materia in alcuni collage che lui crea, dove unisce appunto i frammenti della vita. A proposito di rigenerazione e di parola, qui c'è anche un'iniziativa che verrà portata avanti durante questo mese di aprile, che è quello di portare qui giornali e carta scritta riciclata da buttare via, in modo che poi venga ricomposta attraverso le mani di Rodelli come nuova forma di arte. Sì, dunque, come sempre non sono solo le mie mani a lavorare, anche se lo sono, insomma, però è più una regia assieme agli studenti dell'Accademia. Ma il tema è quello che ho detto, che ho anche detto fino adesso, cioè la rigenerazione. Cioè dire in uno spazio come il macro, che è uno spazio dove la sua flessibilità ha permesso di rigenerarlo, è uno spazio culturale, in una società che tende a perdere tutto, io vorrei che il messaggio fosse quello di non perdere il perdibile, perché ogni cosa poi ha un senso. Specialmente, per esempio, la storia dei giornali, dei quotidiani, che diventano il giorno dopo carta straccia, cosa da eliminare. E allora, attraverso queste installazioni, io ho creato questa piazza simbolica, al centro della sala, dove i cittadini sono invitati a portare i loro giornali. E che cosa accade? Accade che, fra 15 giorni, gli studenti dell'Accademia con me lavoreranno per una rigenerazione di questi giornali, creando delle forme che tendono a rappresentare qualcos'altro, quindi un ordine simbolico differente. Un punto centrale, però, è necessario ricordarlo, che questa rigenerazione avviene attraverso una ricerca che io ho fatto col CNR di Firenze. Cioè, lo scienziato Miglietta ha lavorato con me per produrre una sintesi della clorofilla che permetterà a questi giornali di diventare spazi di luce. E quindi, ritorno a questa idea, se qui ci sono i giornali, c'è anche, per esempio, il lavoro sulla voce di Adonis che diventa un'altra cosa grazie all'intervento dei giovani invece qui del Conservatorio di Santa Cecilia che hanno elaborato la voce di Adonis, facendo diventare una colonna musicale, una colonna sonora per l'installazione che realizzerò all'esterno del macro. Ecco, sta a significare tutto questo che nulla termina come si vorrebbe, o potrebbe terminare se noi crediamo che può continuare in una dimensione ulteriore. E Rotelli l'ha sempre creduto questo, considerando quello che ha riportato, i simboli, i segni del passato che ha riportato nelle sue opere. Sì, anche quando, in un certo senso, sono rimasto solo in questo percorso perché è chiaramente un percorso assolutamente in solitaria, che ha scelto molto la parola dei poeti e quindi è un percorso che tende molto anche verso l'interiorità, che tende anche al recupero dei linguaggi perduti, al contatto con le persone e alla visione assieme all'altro. Grazie. Grazie.